Saranno due le edizioni del presepe vivente di Castiglion Fiorentino. La prima è fissata per il 18 dicembre con novità rispetto a quella classica del 26 dicembre. I lavori sono in corso ma le anticipazioni hanno confermato le due edizioni. Si tratta di un ritorno molto importante per Castiglion Fiorentino visto e considerato che si tratta di una delle poche manifestazioni viventi che rimangono in vita nella Retino. Da segnalare che a Castiglion Fiorentino il 2 dicembre tornerà un altro grande appuntamento in presenza. Avevamo anticipato ovvero la cena della Caritas che si svolgerà nel pallone della Polisportiva Montecchio. Un altro grande appuntamento per dare un senso al Natale ma di sicuro il dicembre nel centro della Valdichiana sarà ricco di manifestazioni.